Steph, ho imparato una nuova abilità speciale per il nascondimento di oggi, la vuoi vedere? Ma non ci crederò mai, Ferre, dai Sì, no, è bellissima Mostrami nulla Io ti ho detto che sarai gelosissima e mi chiederei subito come fare per averla Vediamo che cos'è Guardami, guardami Ok Ferre Mi sto arrampicando Dove stai salendo, Ferre? Sulla porta, sulla porta Ma come fai? Eh, perché sono abilissima, Steph, quindi non solo mi nasconderò, ma mi potrò pure arrampicare per andare nei posti più irraggiungibili in cui tu non mi vedrai mai Ma, me lo insegna anche a me, perché altrimenti non vale, Ferre Vabbè, certo, certo, le insegno anche a te Meno male, grazie E ragazzi, come va? Io sono Ferre Niki E io sono Steph, che si chiama Gmod E oggi siamo qui con un nuovo episodio del nascondino, come avete visto, con un nuovo potere speciale Questo oggi, infatti, riscriviamo la storia dei nascondini Perché vogliamo aggiungere un qualcosa che potrebbe cambiare le sorti del nascondino in generale Allora, da ora in poi, abbiamo il potere di arrampicarci ovunque nella mappa Quindi, è una cosa interessante perché? Perché possiamo raggiungere i punti più alti della mappa che di solito non sono raggiungibili Ma allo stesso tempo possiamo restare appesi E vi faccio vedere subito che potenziale ha Perché voi direte, ah ma Steph non è niente di che E invece no, guardate, io mi metto qua Faccio così Mi appendo così E non sto né a terra Né sto sopra Sono nascosto con un nascondiglio che non esisterebbe se non avessimo questo potere Quindi è molto bello, molto divertente Secondo me potrebbe davvero cambiare tantissimo lo stile del nascondino che noi facciamo Renderlo più divertente E dare, diciamo, un po' di spazio in più alla fantasia dei nascondini estremi Quindi questo oggi lo proviamo e vediamo come va Ferre, chi si nasconde per primo? Eh, vai tu Dai, così allora Ok, mi lasci l'onore? Così, sì Ne approfitti per far vedere la bellissima mappa ai consolini Che è la stanza di tuoi storie Ovviamente, molti di voi l'avranno già riconosciuta Quindi ne approfitti per far vedere tutto Voglio dire la realtà delle cose Ferre non serve nascondersi perché la mappa è piccola E di conseguenza mi ha lasciato per primo Così mentre pensa a qualcosa Adesso ti spio Aia, aia Ti spio Ma hai dato un pugno Ferre? Credo di sì, non lo so Lo sai che Stef non ha di questi problemi? Facciamo così Così Vediamo Perfetto Quando vuoi fare Allora vado? Sì sì, puoi andare, puoi andare Non c'è problema Allora, iniziamo a vedere dove si può essere infilato Vediamo un pochettino Chissà, chissà In alto e in basso A sinistra e a destra Chissà dove, vero Stef? Chissà dove Arrampicato, non arrampicato Appeso, non appeso Non possiamo saperlo Perché Stef è troppo bravo Nessuno può aspettarsi dove si è nascosto Secondo me questa cosa non l'è ancora notata nella mappa Quindi Credo che non mi troverai facilmente Però mi sono dimenticato di mettere un timer Ferre Ah Eh Vabbè L'ho messo in editing e poi Nella realtà Noi ci arrangeremo Esatto Allora, sì, ok, dai Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Vai, vai, vai Sono per i nicki Dico sempre che non ci sono nascondili nelle mappe È proprio proprio Stef È proprio Stef Avrei fatto qualcosa di indicibile come sempre Come sempre Stef Qualcosa che non si può fare Qualche va Ma che non si Ma Ma allora Vai zitto Allora, io ho sfruttato al pieno La nostra nuovabilità Sì, sì Ok? Sì, certo Nascondiglio però Potevi essere qui dentro Potevi L'ho visto E ho fatto So che Ferre non l'ha visto Però se ne accorgerà E andrà a controllare Quindi ho fatto qualcosa di più difficile E infatti si è andato in un'altra parte Quindi sapevo che c'era Però non l'ho utilizzato Mi spiace Quindi un altro cassetto Ti ricordo che mi stai sempre dicendo che non ero in forma Eh beh, sì Sì, no, hai fatto un periodo in cui non ero in per niente Esatto Questo parkour possibile nei nascondini Il parkour ha risvegliato Tutta la forma e tutto il potere Le tue abilità insomma Ok, quindi sei davvero in pericolo Ferre Perché sono carico Quindi mi spiace dirtelo Allora, ho una bezza idea dove potresti essere E infatti Eccoti qua Ciao Stef Ero due ore che provavo ad arampicarmi nel cestino Vabbè Ti ho trovato Ciao Stef Hai rovinato tutto Ferre Poi guarda La cosa più epica È stata che ti ho trovato Proprio nel momento in cui ti stavi autoelogiando Quindi è stato ancora ancora più bello Me ne vado Ok Me ne vado Non riesco niente ad andarmene Spremi vuo ed esci Ho qualche problema Ma che bel muro Forza Ferre Muoviti perché non ho troppo tempo da perdere con te Guarda Addirittura Sì, la gente è troppo forte Non ha tempo da perdere con le ferinichi Che neanche mi trovano Quanto ci hai messo? 45 minuti a trovarmi Ferre? O un'ora e mezzo? Perché non ho tenuto bene il conto Non ci ho messo tipo mezzo minuto No, almeno due minuti Cioè, non dai Io volevo già Ma due minuti ci sono passati comunque Quindi chiariamoci Ti sei nascosta? No, aspetta È successo un problema Io mi volevo nascondere in un posto Però non so se sinceramente Sto posto è raggiungibile Quindi adesso mi arrangio un pochettino E diciamo che Rivedo il mio nascondiglio Ok E quindi devo aspettare ancora? 30 secondi che adesso mi riarrampi Addirittura 30 Dai, sì Stai Attendo 10 10 Non iniziare 9 8 7 Fatto? Vai, vai Le ho messo ansia e c'è riuscita Allora La vedete, Consolini? Mi volevo nascondere Dimmi Dentro, ho capito Tipo dove c'è il topolino Perché secondo me Quei colori Un po' inganna Ma no, sei marrone, Fede Sì, ma dai Se ti metti là Non nostri nel disegno Come è che non ci si può stare? Ma non mi puoi durare 3 secondi Sì, ma guarda Là lo rifaccio, dai Però vedi che non ci puoi stare Neanche volando riesco a starci Guarda Vabbè, ma fidati Ti vedevo Quindi dai No, non mi avresti mai visto Fai la persona seria Per un attimo Non mi avresti mai visto E cerca di nasconderti Su, dai Ok Dimmi te che lo trovo in 3 secondi Pronta, Steph Stavolta non mi troverai mai Sicura? Sì È bello questo È bello Allora Ci ho messo un sacco consolini Quindi ci credo che è bello No, il fatto è che non è che ci ho messo tanto Perché è un posto diverso Non si piace molto Perché sono scarse È difficile la rampita Eh, lo so Bisogna abituarsi a tutti i tasti Che devi usare Quindi diciamo che ho un po' di difficoltà Ad andare in cima alle cose Quindi Dai, Steph Perché sei venuto qua? E poi non mi devi sparare Nessuno ti ha detto che mi devi sparare Hai capito? Nessuno te l'ha detto Smettila E parla Brutto disgra Perché sei venuto qua? Cioè, potevi andare a vedere Tutta questa zona Tutta quest'altra Bene Ti ho detto che sono tornato in forma Grazie al parkour No, ma stai barando Non hai Sicuro che stai barando No, no, no Vai, nasconditi e muoviti Non ti voglio più sentire Adesso ti rivolgo la parola Solo quando ti devo cercare Altrimenti non mi interessa parlare con te Allora, allora Non è possibile È troppo affatto Di smetterla Di avere fortuna Sai che cosa faccio? Sì Vado da quei veggenti Che ti mettono il malocchio addosso Così la smetti di avere fortuna E io vinco i nascondini E dici che funziona, bene? Sì, io ne sono sicura Non sono sicura che funziona Se non c'è un veggente Mettete il malocchio a step Non è vero Sto scherzando Però un pochino fatelo così Smette di avere fortuna Solo un pochino A metà A metà Il malocchio è una cosa brutta Quindi diciamo un pochino Non troppo brutto Ok, anche perché Se no ci passi pure tu Perché comunque Eh, esatto Sono qui minondi Della tua troppa sfortuna Vai, vai Fede Ma dimmi te Che cosa si deve mettere a dire Questo nascondiglio Non è fenomenale Quindi dai Dovresti trovarmi in dieci secondi Anche tu Ok, lo spero perlomeno Almeno così Diciamo torni ad avere anche Un po' di orgoglio Perché per adesso Quest'oggi è proprio Io sono tornato in forma E tu sei calata di prestazioni Eh, ma è colpa tua Che colpa mia Ti stai comportando male Ma che cosa È una bella Ciao Steph Ciao Ma ti ha letto Ti ho detto Eh, lo so Te l'ho detto che sta mappa Non funziona È risposto solo da questa parte Fede Allora, facciamo l'ultimo Ok E poi cambiamo la mappa Esatto Perché abbiamo una seconda mappa pronta All'evenienza Perché sapevamo che questa era piccolina Quindi tranquilli Ho visto un nascondiglio bellissimo E te lo devo fare Ah, ok No, finiamo con quello Ok Vai fare nasconditi Vado, vado Spero di riuscire ad andarci Però Adesso provo Ok, io aspetto qua E vediamo un pochettino Se riesci a durare almeno 20 20 secondi Devi durare Guarda, io adesso metto un timer Per i 20 secondi Perché Non sei mai durata così tanto Questa partita Ti hai fatto schifo all'ultimo Eh, non mi criticare Non mi criticare Eh, almeno 30 Sono durato comunque Te l'hai fatta? Sì, anche se non è quello Che avevo pensato Perché non ci potevo entrare Penso cose troppo belle Io per le mappe Capito? Penso cose Certo, certo E poi non possono essere La tua creatività È cicantesca È troppo, è troppo Allora Allora, allora, allora Tanto io più o meno Ho già adocchiato Tutti i nascondigli possibili Quindi Eh, lo so, pure io Allora Allora, allora, allora Allora, allora Vediamo un pochettino Qui non è Ed è già interessante Dopodiché abbiamo Il cassetto Dato che potrebbe cercare Di fare la furbetta così Ma te l'ho già fatto vedere Il cassetto non vale Eh, ma non si sa mai Che magari giochi sul Fatto psicologico Capisci? No, no, no Sei un po' disperata Quindi magari Hai fatto così Dopodiché c'è questa bella lampada Ma non c'è E questo comodino Che è la stessa cosa Della scrivania Ma fa ad andarci? Dove? Eh, volevo nascondermi lì dentro Ah, ok Ecco, però non fa Eh, non faceva Ok, capisco Nella lampada non sei Che poteva essere Un'altra cosa interessante Anche nella lampada non fa Stef, ho provato pure Qui dietro Non sei Sto già durando più di 20 secondi Credo No, sì, sì Dai 20 secondi Sono passati tutta la vita Mi ho visto uno bellissimo Non so se l'hai fatto tu Non te lo dico No, ti sto guardando Dov'è? Non te lo dico Allora, qua ci sei? Ciao Stef Allora, vieni a vedere Quello fantastico Che avevo visto io Che avrei venuto Fare una ferie di chi Se fosse in forma Allora, salire in questa scrivania Però è complicato Sì Da qua Da qui credo che faccia Vediamo un pochettino Ta 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 Ok Poi qua Eh, bisogna ingegnarsi un sacco Eh, sì Infatti non so che hai visto bene Ok, sono sulla scrivania Aspetta Ma dentro la tazza? Esatto Non si può Davvero? Sì Ti hai provato? Sì Da, dannazione Ed eccoci nella mappa preferita di Fere È tutto rosa Tutto, tutto, tutto È molto carino Oggi siamo a tema camerette Però questa è davvero molto carina È davvero carinissima Infatti fateci sapere anche se la volete vedere in un video per intero In ogni caso Questo oggi lo utilizziamo per nasconderci nella seconda parte di questo video Allora Fere, chi inizia a nascondersi? Eh, non lo so Che dici? Inizio io? Inizio io inizio io Perché l'altra volta Oddio, però non so minimamente che nascondirci sia in questa mappa È pieno È pieno È pieno Non c'è altro da dire È davvero, davvero, davvero pieno Quindi sceglilo bene, mi raccomando Anche se per me sarà difficile trovarti a priori Dato che ci sono tante possibilità Perettina Trovami, Steph Allora Eh La parola Oddio, è difficile Allora, io non ho girato troppo Perché comunque ho pensato prima a nascondere Le parole ne ho visto due miliardi Lo so Sono gironzolando così Pensa che lo devi cercare Cioè, ti viene da controllare tutto Qua che cosa c'è? Oh, terra, dannazione Speravo fosse già Fere nascosta Oddio, una scala per salire fin lì Ok Allora Allora, fatemi salire qui sopra Ok Saliamo queste scale Magari dall'alto vediamo meglio Dici, dici Magari è un visuale un po' più ampio È certo È certo È certo Abbiamo un bug visivo al centro della stanza Credo che sia Luca Luca Vedi questo qua Credo che sia Luca Compare ogni tanto qua che flutua Il fantasma di Luca Il fantasma di Luca Che si nasconde anche lui Però Non mi devo far distrarre Secondo me Qua dall'alto posso scoprire qualcosa Ad esempio qua Io mi ci sarei nascosto tutta la vita Infatti è un nascondiglio che avevo fatto In una mappa simile Se vi ricordate Sto guardando Voglio vedere un pochettino Cosa stai elaborando Capito? Aia Non volevo cadere Devo essere sincera Oh, bello Buongiorno Ma quanto sono bello Questo oggi Vi faccio vedere lo specchio Mentre mi arrampico Bello Bello Che belle visioni Però Devo trovare una ferinichi Quindi Devo continuare Cassetto Niente Non è giusto Non iniziare a spararmi Ti ho già detto Ti ho già detto Di non far Troppi posti Troppi Però non ne vedo uno Formidabile Quindi Non lo so Però sono tanti Quindi comunque devi contare Che il cercatore ci mette un po' di tempo Questo lo devi sempre valutare Certo Certo che è un bel vantaggio Però Aia Ho sentito splat Sì In terra E anche qualche rumorino di ossa rotte Che forse erano le tue Sì Decisamente Ok Mi sono A che punto sei Stef? Che fa? Che fa? Puoi prendere Che combina Perché quella voce è molto provata Faccio una preghierina per te Allora Ti devo chiedere una cosa molto importante Hai notato che in questa casa Ci sono tutti i cunicoli Delle trappole per i topi Sì Li escludiamo quelli Io devo andare a cercare No 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 vai Escludi Escludi Perché lì è davvero tanto Non sono così cattivo Fere Lo sai Comunque questa mappa Cosa c'è? Mi hai già visto? No no Mi hai visto? No no Allora mi hai visto perché hai cambiato Non ti ho mai visto in tutta la mia vita Fere Non so neanche come sei fatto in faccia Sinceramente E allora sei più su Sei più su Tipo un po' più su di dove io sono adesso Può essere Non si esclude nulla nella vita Però se noi Ma cavolo dove sono entrata? Mio Dio Facciamo No non posso Peccato peccato Vabbè Secondo me è semi impossibile vedermi Ok Ok E ho fatto il migliore nascondiglio possibile in questa mappa Così Al primo try per dimostrare ancora quanto sono in forma Però vediamo Vediamo Dai 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 Comunque ti ho visto mentre salivi le scale Chiariamoci Ah ok Quindi se vabbè Però oddio mi puoi vedere da un sacco di parti Già La cameretta è aperta Già Eh lo so Oh mamma mia Per ora non ti voglio andare indizi perché mi voglio godere questo nascondiglio Dato che prima mentre mi vantavo mi hai trovato Secondo me che stavolta vado sul sicuro e posso continuare a vantarmi Allora fammi pensare dove può essere andato Mi è sembrato di vedere uno Steph al tempo No io non vedo nessuno mi spiace Eh sì te lo rendo Hai le allucinazioni Te lo rendo Te lo rendo Che fai? Sto sparando Eh ma sei sopra di me Sì Eh quindi non sei venuta da me Sì che vengo da te guardami No 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 non sei in grado perché Allora perché sei incastrato e ti sbuca solo la testa da qui Steph Spiegami cosa ti è successo Eh io sono sotto Come sei sotto? Sono al piano di sotto Fere Ma davvero? Sì E perché ti sbuca la testa? Cioè io ti ho visto per un bug Perché non ci stavo bene qua e quindi c'è la testa che sbuca Ti ho visto per un bug Per dimostrarti che io non sono totalmente là Adesso non c'è più la mia testa Ciao Fere Oh mamma mia E adesso come fai? Perché fin quando non mi raggiungi Non mi hai preso Non l'ha mai detto a nessuno questa regola Steph Non dire fesseria solo perché ti ho trovato subito E ti ho ricomito di aver fatto una scuola Trovo subito? Sono passati almeno tre minuti Ok Ok E adesso? Ce la faccio Sì sì vediamo Ce la faccio Come hai fatto? Ma siccome io ti ho visto Fere No 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 Torna No ti ho visto Torna di sotto Torna Ti ho visto E oltretutto da qui Sì Caro mio sbucava la tua testa Quindi io ti ho toccato Perché ho toccato la tua capoccia Mi dispiace Steph Non mi puoi far perdere ancora altro tempo Perché io ti ho visto e trovato Perché se ti ho visto e ti senti un like E se la prima volta che avete un nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri fisoni Ciao alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.